Una vertenza lunga, cento giorni, interminabili, vissuti a turno in quella tenda, niente da festeggiare per questo amaro anniversario da parte dei lavoratori per COP di Avellino. Una lotta sfiacchita dal caldo di quest'estate rovente. Molti hanno desistito, altri ancora ci credono e portano avanti la battaglia per i 138 lavoratori messi in mobilità dalla COP, con la speranza che a Z porti un piano industriale credibile per il rilancio. Se vogliamo calcolare che al 6 settembre, il giorno che ci sarà l'incontro al Mise di Roma, arriveremo quasi a quattro mesi, sinceramente sono tanti, sono troppi. È una data importante perché non avremmo mai pensato di doverci trovare qua dopo così tanto tempo. Le speranze devono essere per forza intatte, siamo da cento giorni qua e speriamo che questa battaglia finisca al più presto. Ed è stato un ferragosto di passione e di preghiera grazie anche al sostegno di Don Vitaliano della Sala, il parroco sempre dalla parte degli ultimi, che ha celebrato messa nella tenda allestita davanti l'ipermercato di Contrada Baccanico. È stato importante perché crediamo anche in questo. Siamo stati qui tra di noi per cercare di darci almeno forza e coraggio tra di noi, perché comunque a tutt'oggi noi lo stesso ci vediamo abbandonati da tutti. Ora la testa è già rivolta al prossimo incontro al Mise, da cui dicono dovrà necessariamente uscire una soluzione. Noi ci auguriamo che a Zeta voglia passarsi una mano per la coscienza e aumentare il numero dei lavoratori da assorbire. Passeremo poi a una lotta dura perché non vogliamo più chiacchiere, adesso ci servono i fatti.